Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Punto Pesca. Oggi vi presento una bolognese che, poverina, è rimasta a metà strada tra il 2021 e il 2022. Che cosa voglio dire? Lei in realtà doveva già essere disponibile nel 2021, invece è arrivata verso la fine del 2021 e si è trovata a cavallo del 2022. Quindi non si capisce se è una novità del 2021 o se è una novità del 2022. Io ve la faccio vedere adesso perché mi è arrivata da poco, o meglio, mi è arrivata qualcuna, le avevo già vendute, mancavano delle misure, adesso sono disponibili tutti. Vi ricordo che se la volete acquistare lo potete fare sul nostro sito www.pesca.com e la canna che voglio farvi vedere oggi, la bolognese che voglio farvi vedere oggi, è la Level Active. Level Active è una bolognese da un buonissimo rapporto qualità-prezzo 4, 5 e 6 metri. Poi ve le farò vedere bene nello specifico e vi dirò quale, secondo me, va utilizzata in un modo e quale può essere utilizzata anche in altri modi. Come al solito vi ricordo che, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e se vi va, solo se vi va, un bel like. Quindi non perdiamo tempo, ve la faccio vedere da vicino e poi un po' di considerazioni finali. A dopo! Allora, eccoci con Level Active con la vista da vicino. 4, 5 e 6 metri. Allora, la 4 metri pesa 148 grammi, la 5 metri pesa 220 grammi e la 6 metri pesa 290 grammi. Tutte e tre hanno un cast di 0,20 grammi. Vi dico già che sulla tabella di Tubertini c'è scritto 30 grammi, ma hanno sbagliato. Quindi non guardate quella tabella, ma guardate quello che c'è scritto sulla canna. Vi faccio vedere poi, se riesco a farvelo vedere, la differenza che c'è di diametro tra la 4 e la 5 metri. La 4 metri è quella che, secondo me, con la calciatura più piccolina è quella più maneggevole. La 5 metri è una buona via di mezzo. Quella che, secondo me, è effettivamente di questa serie, una bolognese, a tutti gli effetti, è la 6 metri, che poi vi faccio vedere. Quindi vi faccio vedere, per prima cosa, la 4 metri. Ok, quindi come al solito partiamo dal calcio. Tappo a vite esterno. Vi faccio vedere che all'interno c'è anche il famoso castelletto, che qualcuno mi ha chiesto che cos'era. Siccome viene via facilmente, ve lo faccio vedere. Esattamente questo, diciamo, cilindro fatto in neoprene, queste parti qui, questi scalini qui, servono appunto a far entrare i pezzi della canna e non farli battere. In questo caso qui ce n'è solo uno, dopo vi farò vedere che nella montatura sarebbero stati meglio due scalini. Però ne hanno fatto uno solo, pazienza. Andiamo avanti. Con la scritta Tubertini High Quality. Sulla parte del calcio non c'è niente che agevoli il grip. C'è solo la verniciatura opaca. Secondo me, con le mani bagnate o sudate, un po' tenderà a scivolare. Classica placca a slitta, fatta bene. Ci sono gli inserti del giallo qui sulle legature che sono molto carine. Parte superiore, scritta Tubertini. Le solite avvertenze, attenzione perché è conduttore di elettricità. Andiamo avanti con la scritta Level Active che è leggermente in rilievo. La scritta 4 che è appunto il numero. Poi la scritta 4 metri e casting 0,20 grammi. E ancora il disegno qui che è leggermente in rilievo. Adesso vi faccio vedere gli anelli. E come potete vedere, il fatto che non ci sia quello scalino, fa in modo che questo pezzo entra dentro il secondo anello. Perché vedete che questo arriva qua e non va più giù di qui. Invece qua, questo qua. Quindi questa qua è una piccola pecca. Fate attenzione perché quello lì alla lunga, sbattendo, c'è il rischio che si rompe. Diciamo che la presentazione sua era questa. Che è molto meglio. Classico anello SICK. È un carbonio rinforzato. Buona la qualità. Vi ricordo sempre che parliamo comunque di una canna di fascia economica. E si presenta così. Adesso vi faccio vedere un attimo invece come è montata la 6 metri. La 6 metri invece, dove qui si vede che il castello è fatto decisamente meglio, la canna è montata così. Tutti vedete che i pezzi non entrano dentro. Quindi qui il lavoro è stato fatto meglio. Adesso vi faccio vedere se riesco la differenza di diametro tra la 5 metri e la 4 metri. Vediamo se si riesce di qua. In realtà per maneggevolezza sicuramente la 4 metri è la migliore. Quindi adesso che le abbiamo viste da vicino un po' di considerazioni finali. A dopo. Allora, eccoci tornati con le considerazioni finali. Vediamo subito che cosa mi piace e che cosa non mi piace di questa canna. La prima cosa che non mi piace sono i copri punta. I copri punta questi qui io veramente li odio perché gli altri copri punta sono decisamente meglio. Questi qui non proteggono, si rompono. Questi fanno, secondo me, proprio schifo. Un'altra cosa che non mi piace e che vi ho fatto vedere è che sul manico non ci sia niente che agevoli il grip. Diciamo che qua la scritta è leggermente in rilievo però secondo me con le mani con le mani bagnate o con le mani sudate la canna un po' tenderà a scivolare. È vero che è una canna di fascia diciamo economica però fare qualcosina qui qualcosina qui secondo me in rilievo si poteva fare per agevolare il grip. Sulla 4 metri come vi ho fatto vedere non mi piace che appunto il castello non sia stato fatto meglio per poter appunto non far entrare questo anello all'interno perché alla lunga si rovino le legature e si rischia che alla lunga si rompa l'anello. Diciamo che queste sono le cose che sulla 5 metri e sulla 6 metri soprattutto per quanto riguarda le legature quel problema invece non c'è. Cosa mi piace? Mi piace di questa serie di canne la 4 metri. allora la 4 metri io vi dico qui in zona da me a chi la propongo. Allora la propongo quando ci sono dei ragazzini che devono andare a pescare la canna è piccolina è leggera e maneggevole quindi per pescare galleggiante a far pescare a un ragazzino a galleggiante è l'ideale. Se volete pescare le trote a galleggiante una 4 metri è l'ideale si pesca col galleggiante è comoda e molto veloce come canna. La canna ha un'azione comunque diciamo semiparabolica ed è divertente. Secondo utilizzo sempre per la pesca alla trota con le bombarde fino a 20 grammi si lanciano benissimo quindi diciamo che per una pesca 8, 10, 12, 15 grammi ma anche 20 grammi la potete utilizzare anche per lanciare delle bombarde. piccola, leggera e maneggevole dal buon rapporto di qualità e prezzo. Dopodiché passiamo alla 5 metri la 5 metri è secondo me una buona via di mezzo come bolognese per chi innanzitutto vuole cominciare a pescare a bolognese una 5 metri non costa cara è calciata piccola è leggera è bilanciata è divertente. Dove la potete utilizzare? La potete utilizzare tranquillamente al mare e la potete utilizzare tranquillamente anche in laghetto per pescare le carpe dove magari non c'è bisogno di molta profondità una 5 metri è una canna veloce è una canna comoda occupa poco spazio appunto è leggera e per pescare le carpe il pesci gatto soprattutto d'estate va benissimo soprattutto e vi ricordo per chi si deve approcciare appunto alla pesca a bolognese ma secondo me quella che veramente è della serie più una bolognese secondo me è la 6 metri la 6 metri anche lei ha un buon rapporto di qualità e prezzo è una canna robusta diciamo che non mi sento di consigliarvela se volete pescare proprio con terminali sottili però è una canna che mi sento di consigliarvi se appunto volete andare in un carpodromo o se volete andare a pescare a galleggiante al mare la 6 metri diciamo che è la misura standard di una bolognese sia per chi si approccia sia per chi vuol comprare una seconda canna è una canna robusta è montata bene vi ho fatto vedere che è montata bene ha dei begli ha dei begli anelli classici che diciamo appunto che monta che monta Tubertini non è non è pesantissima non è neanche leggerissima però appunto come vi dicevo non è una canna di fascia di fascia alta per cominciare va bene come seconda canna va bene io la promuovo perché è bella anche esteticamente un bel nero satinato con una bella scritta level active se avete la possibilità di aprirla vedrete che è anche secondo me abbastanza bilanciata ha appunto un'azione abbastanza parabolica quindi non è proprio una spada diciamo passatemi il termine però sicuramente appunto come vi dicevo per pescare nei carpodromi è l'ideale perché si riesce ad affrontare comunque pesci anche di taglia importante con una canna che non costa non costa tantissimo quindi io onestamente mi sento di consigliarvela o perlomeno se potete vederla in qualche negozio la aprite e poi decidete se vale la pena acquistarla oppure no vi ricordo che se la volete acquistare sul nostro sito online www.pesca.com niente credo di avervi detto tutto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao